Cosa sia accaduto davvero nella mattinata del 22 gennaio durante l'incontro fra i sindacati e la ministra Lucia Zolina è difficile dirlo perché i commenti sindacali non sono del tutto concordi. Nel comunicato unitario diramato al termine della riunione si parla di una prima presa di formale contatto, nel corso della quale le organizzazioni sindacali hanno comunque sollecitato la ministra a riavviare con la massima urgenza possibile il percorso di attuazione degli impegni concordati in sede di conciliazione fra sindacati e Miur il 19 e 20 dicembre scorso. Per parte sua sulla propria pagina Facebook Lucia Zolina dice che si è parlato di concorsi ma non solo. Riferendosi ai sindacalisti presenti la ministra scrive ho spiegato loro che il lavoro è ripartito e che stiamo mettendo a punto tutti i dossier. Ma è proprio questa frase che fa irritare e non poco il segretario nazionale della Will Scuola Pino Turi che obietta. La ministra dimentica che la politica come il sindacato è confronto, negoziato, scelte, sintesi. Non c'è mai uno solo che spiega. Pino Turi lamenta anche il poco tempo riservato agli interventi sindacali e ironizza. Sono 8, 15 e 7 i numeri della riunione al Miur, 8 l'orario di convocazione, 15 i funzionari seduti dal lato dell'amministrazione, 7 i minuti per gli interventi dei sindacati scuola. Ma su questo aspetto Francesco Sinopoli, segretario nazionale di FLC CGL, si dimostra soddisfatto e con un proprio comunicato autonomo, sottolinea che la ministra ha ascoltato le richieste sindacali, di cui fa un elenco preciso punto per punto. Pino Turi della Will Scuola assicura invece che non è stato presentato nessun elenco della spesa perché i temi oggetto del confronto sono ben noti a tutti. Leggendo fra le righe i diversi comunicati, sembra comunque di capire che a breve dovrebbero essere convocati i tavoli di confronto sulle diverse tematiche aperte, anche se la ministra ha fatto presente la necessità di una verifica politica con le forze di maggioranza su alcune delle questioni sul tappeto. Il tema più complesso e più difficile da risolvere è quello che riguarda il reclutamento e le abilitazioni. Già nell'aprile scorso il presidente Conte, in prima persona, aveva parlato di un disegno di legge per regolare la materia. Senza poi trascurare il fatto che il clima politico non è dei più sereni e che forse bisognerà aspettare almeno il voto regionale in Emilia-Romagna e la soluzione dei problemi interni al Movimento 5 Stelle per capire cosa succederà. Del tutto rituale, infine, la conclusione del comunicato unitario dei sindacati. Se non ci saranno risposte sul merito delle questioni poste, riprenderemo le iniziative di mobilitazione in precedenza sospese. Conclusione che ha persino il sapore della vecchia storiella del allupo allupo. Su tutto questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Leggeteci e scriveteci, noi ne daremo conto. Grazie a tutti.